La Mirolio in C vanta una lunga tradizione nel campo della meccanica di precisione. All'inizio del secolo scorso produceva e commercializzava orologi da torre e da campanile. Oggi la ditta Mirolio effettua lavorazioni meccaniche con l'ausilio di torni e centri di lavoro a CNC su particolari con diametro da 4 mm ad oltre 250 mm. Specializzata nella lavorazione di acciai speciali e legati ad alta resistenza, realizza particolari meccanici comprensivi di ogni operazione di finitura, come rettifiche e trattamenti termici e superficiali. La gamma di produzione si estende dalle piccole e medie serie, dalla prototipistica fino alla produzione di grandi serie. Grazie ad accordi di cooperazione, la Mirolio NC può inoltre fornire prodotti stampati a caldo, a freddo ed estrusi. La nostra produzione è costituita da componenti di motori, cambi e trazioni per auto, veicoli industriali e commerciali dei principali costruttori automotive italiani e tedeschi. L'azienda investe costantemente in impianti e macchinari innovativi per mantenersi tecnologicamente aggiornata ed in linea con le richieste e le esigenze della clientela. A tal fine, seguendo le richieste del nostro cliente Ferrari, siamo in grado di verificare il grado di pulizia e la relativa decontaminazione dei prodotti forniti. Inoltre, l'azienda è dotata di un laboratorio per effettuare controlli tridimensionali, le strutture dei materiali, i trattamenti termici e superficiali dei nostri prodotti. I nostri tecnici sono disponibili ad elaborare studi di fattibilità dei vostri prodotti a costi competitivi. Certificata secondo le norme del settore automotive ISO TS 16949 ed ambientale ISO 14001, la ditta Miroglio si avvale di macchinari di ultima generazione per fornire ai propri clienti prodotti di qualità. La ditta Miroglio dispone di un impianto fotovoltaico di 80 kilowatt per l'autoproduzione di energia elettrica.